Siamo alla viciria di San Giuseppe, si parla così poco di lui perché effettivamente se noi vediamo nel Vangelo non ha spiccicato una parola, niente, parlava, però nel Vangelo non c'è una sola parola che ha detto San Giuseppe. Quello che ha scelto Dio per padre reputativo di Gesù aveva già uno spirito elevato, si è dovuto scontrare anche lui contro la mentalità comune, non è giusto oppure si fa così perché così dice la legge. Tant'è vero che quando Maria rimase incinta chiaramente Giuseppe rimase sbigottito, non si sapeva dare una spiegazione. La legge diceva che le donne adultere andavano lapidate, condannate a morte a fronte di questa realtà della legge che richiedeva che Maria fosse denunciata e lapidata. Ecco, vedete, non si sentono le parole di Giuseppe ma le azioni. La giustizia profonda che era nel cuore di Giuseppe ha scavalcato la legge, ha messo al primo posto l'amore. Lui non sapeva niente che rimase incinta per opera dello Spirito Santo, che era una cosa assolutamente assurda e impensabile, no? Se noi ci mettiamo nei panni di San Giuseppe nessuno poteva pensare una cosa del genere, né tantomeno ancora l'angelo gli aveva detto cosa, non gli aveva detto niente. Di fronte alla legge lui la scavalca per l'amore. Non lo so che cosa è successo, tuttavia io a Maria non la denuncio, né tantomeno la faccio condannare a morte. Guarda Maria, io ti mando in segreto, nessuno lo sa che sei in Cina, niente, non si sa niente. Te ne vai in segreto e basta e si chiude qua la cosa, perché che devo pensare? Quindi da un lato c'è Giuseppe misericordioso che va oltre la legge per amore e dall'altro c'è Maria che non spiccica neanche a lei una parola in quel caso. Non si è neanche difesa. Dio mi ha fatto sta promessa, mi sta capitando questo? Maria come nel suo cuore, come lo dimostrerà più avanti, conserva queste cose nel suo cuore e anche lei scavalca, scavalca la sua mente per mostrare il suo cuore che è un cuore di abbandono a Dio, un cuore di fede e si abbandona nella cosa più assurda. Non è che ha detto, mamma mia, sono rovinato, e ora che fa? Che succede? Ma come è possibile? No, Maria il sì che ha detto all'angelo sia fatta di me secondo la sua volontà. Questo sì lo dirà anche adesso. Signore, non capisco, Giuseppe ha ragione, e io che gli devo dire? Che gli devo dire io? Ma anche se lo dicessi, io mi crederebbe. E Maria si abbandona a Dio anche in questo fatto assurdo, irrazionale, come questo padrone della vigna. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatasi con loro per un denaro, al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide un altro. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là, e disse loro, perché ve ne state qui tutti i giorni oziosi? Gli risposero, perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro, andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama gli operai e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero un denaro, per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo, questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse, Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi. Anche qui c'è un assurdo. Certo, il discorso di Maria è molto più grande, molto più grave, però il principio è lo stesso, è l'amore. Quello che ha lavorato un'ora attraverso questi esempi, il messaggio è chiaro, è l'amore che vince. A volte in delle situazioni, dice, che faccio? Qual è la risposta di amore? Perché alla fin fine, quello che ha assoldato nell'ultima ora, non è che era una persona sfaticata, era una persona poverina che cercava lavoro, e non ne ha trovato, nessuno lo chiamava. E' stato lì nella piazza, sperando che qualcuno lo chiamasse. Ha vinto l'amore alla legge, perché la fede scavalca la mente. Noi generalmente affrontiamo la nostra vita solamente analizzandola con la mente, e basta, e basta. Ma a volte, a secondo le realtà che abbiamo davanti, dobbiamo porci la domanda, qual è la risposta d'amore in questa situazione? Qual è? Giuseppe, di fronte a un fatto grave, poteva arrabbiarsi, ma come? Mi hai tradito, ma come? È una parola di conversione per noi. Adesso che siamo in periodo di quaresima, questo brano, San Giuseppe, l'anno di San Giuseppe, quindi questa figura silenziosa, parla con i suoi gesti, parla con le scelte che ha fatto, ed è, la sua parola è testimonianza, è quello che ha fatto, questo parla di San Giuseppe. Una figura amatissima, anche se non ha detto una parola, allo Spirito Santo, ha fatto amare questo santo nella Chiesa enormemente. Il culto per San Giuseppe risale ai primi secoli della Chiesa, quindi è sempre stato amato, perché il suo atteggiamento parla. Ha iniziato la sua missione di essere il padre putativo di Gesù, l'ha iniziato con questo atto meraviglioso di fede. La cosa stupefacente, lo sapete qual è? Dio è un ritardatario, e noi lo difeniremo così. Nei panni di Giuseppe, che amava Maria, e dice, ma tradito, non poteva pensare altro. Dell'immaginante quanto ha sofferto questa persona, e a fronte della sofferenza, ha fatto vincere l'amore. E sto Dio ritardatario, è passato tempo, prima che l'angelo gli apparisse. Non ti preoccupare, guarda, le cose stanno così. È una manifestazione straordinaria di Dio, la più grande della storia dell'umanità. Sta avvenendo un fatto straordinario. È Dio stesso, che si sta incarnando nel seno di Maria, per virtù dello Spirito Santo. È un fatto straordinario. Vedete, un'altra persona, che non era Giuseppe, avrebbe detto, sì, va bene, per opera dello Spirito Santo, avrebbe ragionato alla maniera umana. Anche quando l'angelo lo rivela a Giuseppe, che opera dello Spirito Santo, e non è affatto un discorso umano di uomini, San Giuseppe entra nella fede, anche lì. Ma vedete che personaggio meraviglioso è San Giuseppe. Entra, crede, ha fede, il suo cuore pieno d'amore, che ha preparato forse Dio. aveva un cuore pieno d'amore e lo ha dimostrato anche in fatti estremi, come quella di Maria incinta. La vita di Giuseppe, che ha detto sì a Dio, come ha detto sì la Madonna, non è stata tanto facile, perché tante altre volte, nelle vicende che ha vissuto, che non sono state tanto facili, si è fidato, si è fidato, si è fidato. Quando hanno perseguitato i bambini, perché volevano fare fuori Gesù, allora costretto ad emigrare, ve l'immaginate, aveva lui lì la sua attività, aveva il suo laboratorio di falegname, era un operaio, un artigiano, lasciare tutto per andare in Egitto, un po' all'avventura, in Egitto, scappare, fidandosi di Dio, fidandosi. E questo Dio ritardatario, al momento opportuno, si manifesta. dico ritardatario, fra virgolette, perché per noi è ritardatario, e chiediamo una grazia, e pensiamo che subito succede, quella cosa che chiediamo a Dio, e poi invece non succede niente, e diciamo, vabbè, Dio non mi ha ascoltato, Dio, Dio ascolta sempre, tranne se uno chiede, perché lui conosce tutto, tranne che quello che tu stai chiedendo, non corrisponda al bene tuo, e del suo disegno di amore, per il mondo, per gli altri, perché ti sta vicino, a volte guardate che nella vita, il dire un sì, o un no, cambia la vita non solo tua, ma anche delle persone, e voi non potete immaginare che significa un sì o un no, cambia tutta la storia, ma non solo nostra, nelle sue vicende, come nelle nostre vicende, Dio si manifesta al momento giusto, a volte è necessario che noi attendiamo, per i fini che lui sa, ma anche per rafforzare la nostra fede, il nostro sì, continuare a credere, Signore io mi fido di te, mi fido, mi fido, mi fido, ok, io ti ho pregato, non sta succedendo niente, ma mi fido, mi fido, Signore, ecco perché per noi Dio è ritardatario, ma invece nella sapienza di Dio, è fondamentale, per noi crescere nella fede, per formarci, per fidarci di Lui, perché lo scopo del nostro cammino sulla terra, è questo, e avvicinarci sempre più al cuore di Dio, fidarci sempre di più, in un abbandono totale, che è l'abbandono di Maria, che è l'abbandono a Dio di Giuseppe, possiamo rivedere tutta la nostra vita con gli occhi di Giuseppe, con gli occhi di questo padrone della vigna, che è Dio, che dà all'ultimo arrivato, che ha lavorato poco, dà la stessa paga, qualcuno alla volta scorsa, ha detto, il buon ladrone è stato furbo, dopo che ha fatto tutti i suoi comodi, tutta la vita, e poi alla fine ha detto, signore perdonami, ed è andato in paradiso all'istante, dice oggi stesso sarei con me in paradiso, non è stato furbo, non è stato furbo, è stato quell'operaio dell'ultima ora, quante persone, non perché sono cattive, non è colpa loro, ma non hanno mai conosciuto qualcuno, che gli parlasse che Dio li ama, che Dio è amore, rivedere i rapporti che abbiamo con gli altri, il rapporto che abbiamo verso noi stessi, a volte si è talmente severi con se stessi, che ci si condanna, quante persone sono tormentate dai sensi di colpa, lo sai che Dio è amore, i sensi di colpa non sono compatibili con l'amore, hai sbagliato, benissimo, riconosci che hai sbagliato, se hai da chiedere perdono, chiedi perdono a Dio, dopodiché perdonati e dice a Dio Signore, ti ringrazio, anche in questa esperienza che ho fatto di caduta, io ti ringrazio Signore, perché sto capendo adesso il peccato come veramente porta angoscia, morte e tristezza. Dio è amore, credi nel suo amore e ritorna nella tua pace, anzi, ama di più Dio, perché in questo modo hai scoperto ancora di più, non volevi, è successo, di più, attaccati al Signore che ti ama. Paura, sensi di colpa, se tu vuoi essere una persona di fede, non appartengono al cristiano, né la paura, né i sensi di colpa, ma la conversione appartiene al cristiano. convertirsi significa trasformabili, se ti affidino al Signore, ti trasforma, ti trasforma, come il buon ladrone, ti trasforma, è stato trasformato, come Maria Maddalena, è stata trasformata. ve l'immaginate, se Maria Maddalena era presa dai sensi di colpa, delle paure, si è fidata, si è incontrata con l'amore, ha creduto all'amore, e questa l'ha fatta diventare santa, ho fatto pure una catechesi, la santa peccatrice, che si intitolava. Vi voglio dire che abbiamo a che fare noi, non con un uomo, ma con Dio. E dice San Giovanni che Dio è amore, abbiamo a che fare con l'amore, con l'amore infinito, non un amore condizionato, ma incondizionato. Quest'amore brilla sempre, sempre, ed è importante che noi lo conosciamo, lo dobbiamo conoscere, perché questa è salvezza per noi. Gesù è il salvatore, perché è venuto a portare l'amore, incondizionato, è morto di quando noi eravamo peccatori, lui ci amava, è morto per i nostri peccati, ha pagato lui il nostro conto da pagare, affinché noi non avessimo più debiti. Ecco perché per noi il paradiso si è aperto, non perché lo possiamo meritare con le opere, ma perché Cristo ha pagato per noi, ha pagato a caro prezzo, dice San Paolo, a prezzo del suo sangue, per dirci, ma lo vuoi capire che ti amo, sì o no? Ma lo vuoi capire, ma ti vuoi fare inondare da quest'amore che guarisce, che guarisce il cuore, guarisce pure la mente, ma guarisce la mente pure, perché nella tua mente non c'è più conflitto, la tua mente è inondata da questa luce, subentrante una pace, una serenità, una gioia, a prescindere da quello che sta accadendo, non ha importanza. Guardi la realtà con l'occhio di Gesù, in un modo completamente diverso, tu sai che il Signore sta agendo nella tua storia, per la tua conversione, affinché ti trasformi in una creatura sempre più bella, sempre più bella, sempre più bella, fino a quando ci sarà questo incontro meraviglioso con l'amore, e diventiamo un tutt'uno con l'amore. Allora incontrarci con questa verità, se noi quest'amore lo mettiamo al centro della nostra vita, sapete come una batteria che abbiamo dentro, che ci dà energia, e ci permette di darla agli altri, un'energia che ce la fa dare agli altri. Chi non ha questa batteria solare dentro di noi, questo sole che è Gesù, chiede amore agli altri, diventa un mendicante d'amore, e allora se l'altro vede che ti guarda un po' così, allora tu ti senti morto, e ti dici guarda quello con quella parola, ma ammazzato, la nostra vita spesso dipende, se l'altro ci ama, noi siamo tranquilli, se l'altro pensiamo che non ci ama, subentra dentro di noi un'angoscia, ci viene molto difficile dare amore. Questo è un processo di trasformazione, di conversione, e arriverà il momento in cui questa energia che tu hai dentro, che è Dio che hai dentro, questa energia qua, quando ti riscalda tutto e cominci a dare amore agli altri. Amore che significa che tu ti compenetri nell'altro, se lo puoi aiutare lo aiuti. Guardate che, anche senza dire una parola, quando dico amore agli altri, non significa che uno deve dire tutte le parole sdolcinate, deve essere tutto così, tutto affettato, tutto compassato. un cuore positivo, pieno di Gesù, non c'è bisogno, manco che parli. Gli altri ti vedono e gli dai il riposo solo con la tua presenza, perché emani, ecco perché vi dico, l'energia la emane fuori di te, ma non perché stai dicendo chissà quale belle parole, no, 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 proprio così, senza parlare, già emani energia, e l'altro lo percepisce. Non sono le parole che convertono gli altri, ma è Gesù in te che si manifesta agli altri. Questo è un segreto bellissimo, questa luce riempie a te, ma riempie pure agli altri, possibilmente. L'altro si incontrerà con Gesù attraverso di te, attraverso di te, in altri modi no. In chiesa molte persone la criticano, i preti, spesso ingiustamente, ingiustamente, non possono incontrarsi per i pregiudizi che molti hanno verso la Chiesa. Attraverso te incontreranno Gesù. Quindi abbiamo questa missione verso le persone che stanno vicino a noi, accanto a noi. San Giuseppe, prega per noi. San Giuseppe, dacci il tuo cuore. San Giuseppe, dacci la tua bontà. Dacci questo affidamento a Dio. E quando Dio pensiamo che sia ritartatario, facciamo come San Giuseppe, che non prende decisioni contro nessuno, contro Maria, ma semplicemente sceglie l'amore. Penso che questo già sia abbastanza. E lascio la parola a voi. a voi. Ok?